Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti alla seconda colazione con Vale di quest'anno. Aspettiamo che ci sia un po' di gente. Dunque, appunto come vi dicevo, uno dei miei obiettivi di quest'anno che avevo condiviso nel post del mio planning è appunto quello di fare dei video in diretta tutti i sabati, io ho scelto, alle ore 11 per potervi aiutare, consentire di fare delle domande dal vivo, in diretta oppure di darmi la possibilità di rispondere a delle domande che mi avete fatto durante la settimana. Parliamo, questa settimana parliamo della parola dell'anno, se avete letto il post relativo appunto a questo argomento, altrimenti fate sempre in tempo. Dunque, la parola dell'anno, la mia come probabilmente avrete già visto e capito è Rise Up, che vuol dire le ho dato il significato di innalzamento. Questo perché? Perché uno dei miei obiettivi quest'anno è quello di diventare la versione migliore di me. Quindi questa parola, ho trovato che questa parola appunto racchiuda quelli che sono sia i miei obiettivi lavorativi, i miei obiettivi personali di miglioramento e quant'altro. Quindi vi invito appunto a trovare la vostra parola dell'anno. Se qualcuno l'ha già trovata e me l'ha scritta come Livia, che è leggerezza, se voi lo avete già trovata mi piacerebbe conoscerla, condividetela appunto nel gruppo, oppure se proprio proprio non volete mandatemi un messaggio privato, diciamo che mi piacerebbe. Diciamo che poi nel post appunto vi consiglio tre punti. Uno è quello di dare un significato vostro a questa parola, che non sia solo quello del dizionario, perché quello del dizionario è molto generico. Le parole così che io chiamo fluffy, cioè vaghe, troppo vaghe, la definizione del dizionario non è mai personale. Quindi ognuno di noi dà una definizione, un significato personale, ha le parole, queste parole qua grandi che racchiudono al loro interno un sacco di cose, come amore, amicizia, fiducia, impegno, ecco queste parole hanno sì una definizione del dizionario, ma ognuno di noi dà un significato, ne dà un significato diverso. Quindi uno, qual è la vostra parola dell'anno, quale significato date, poi il suggerimento numero due era quello di applicarla a tutti i settori della vostra vita, ovviamente, visto che è la vostra parola guida, e il numero tre è quello di circondarsene, cioè praticamente di scriverla, appiccicarla, appenderla, non so, vedete voi, in più posti possibile, di modo che sia sempre visibile e sotto i vostri occhi. Io, oltre a avercela ovunque, ce l'ho anche sull'unghia, mi sono fatta fare le unghie prima di Natale e l'ho fatta mettere sull'unghia, appunto perché mi piaceva l'idea di iniziare l'anno avendocela scritta sulle unghie. Adesso me le devo far rifare e sicuramente me lo farò fare, di modo che questa parola mi rimanga impressa sempre, sia con me sempre, e quindi ogni volta che praticamente mi guardo l'unghia, mi ricordo della parola, mi ricordo del perché, quali sono gli obiettivi, perché ho scelto questa parola e cosa devo fare o cosa devo non fare. Gli altri due suggerimenti che vi volevo dare oggi, in questo video, sono quello di, praticamente la parola dell'anno, appunto perché è una guida, va anche usata per fare delle scelte coerenti durante il nostro anno, quindi se dobbiamo appunto cambiare delle cose, prendere delle decisioni, è la stessa, va di pari passo con gli obiettivi, cioè quale obiettivo ho per quest'anno in relazione all'obiettivo decido se fare una scelta oppure no. Il problema spesso della gente che si incasina qual è? È che non ha obiettivi o sono molto vaghi, labili, non sono ben precise, specifici, quando arriva il momento di prendere una decisione, non sa che pesci pigliare e quindi spesso o non prende una decisione, che comunque il non fare, prendere una decisione è comunque una scelta, oppure fa delle scelte a casaccio, di solito fa una scelta, di solito prende la direzione più facile, che non è detto che sia quella giusta, per cui poi la gente si trova a dire ma io ho una vita incasinata e si lamenta in continuazione. Il motivo è questo, non hanno obiettivi chiari e poi ovviamente non riesci a fare delle scelte concrete in linea con i tuoi valori, i tuoi obiettivi, le tue aspettative, appunto perché non hai fatto un... insomma non sai tutte queste cose qua. Quindi questo è il primo consiglio che vi volevo dare oggi su questo video con la colazione con Vale. Il secondo suggerimento è quello di lasciare che ti porti in giro. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente ne vedrete, vedrete questa parola un po' ovunque, leggendo un libro, magari guardando su Facebook, qualche vetrina, poi tutto dipende da che parola scegliete. Vedete per esempio se Lidia ha scelto la parola leggerezza sicuramente ci sarà anche in qualche pubblicità, su qualche scatola al supermercato immagino. Quindi lasciare che ti porti in giro. Cosa vuol dire? Ogni volta che vedete questa vostra parola chiedetevi magari ma quali suggerimenti mi sta dando? Che cosa dovrei fare? Dove dovrei migliorare? Quale invito? Quale percezione? Così dovrei cogliere da questo preciso momento. Questo non è proprio facilissimo perché spesso si tende ad andare per default e quindi andiamo sempre così dritti, avanti per la nostra strada senza fare una piccola riflessione. Invece andrebbe appunto fatto. Ogni volta che trovate questa parola chiedetevi appunto che cosa, quale messaggio vorrebbe comunicarmi in questo momento. Ovviamente tutto quello che vi sto dicendo parte dal presupposto che voi dobbiate avere una parola dell'anno e che sia solo una, non più di una, a cui appunto date un ampio significato ma la parola, siccome si chiama la parola e non le parole, deve essere solo una. Quindi io saluto tutti quelli che mi stanno guardando adesso. Aldo che faccio tanti auguri, li ho già fatti ieri ma anche ieri era il suo compleanno. Enrica, Federica, Monica. Quindi, se non ci sono altre domande, io vi invito a leggere il post se non l'avete già fatto, a trovare la vostra parola dell'anno che è veramente, ve lo dico col cuore, è fondamentale per avere una guida, una direzione quest'anno. Poi vi ricordo che appunto ogni mese in questo gruppo è dedicato ad un tema. Il mese di gennaio è dedicato al tema del successo, come probabilmente avete capito, e quindi potete postare i vostri post con l'hashtag successo. La settimana scorsa, se vi ricordate, nella prima diretta, io l'avevo fatto perché uno dei miei successi era quello di aver fatto la prima diretta, oltretutto ero in diretta da Amalfi con un freddo cane. e anche Michela lo aveva fatto, anzi Michela credo che abbia iniziato anche a fare il suo vaso dei successi e vi chiedo a voi, avete iniziato a fare il vostro vaso dei successi? Io come non faccio proprio un vaso, però ho dedicato, nella mia nuova agenda, ho appositamente dedicato uno spazio a fine settimana per scrivere tutti i miei successi della settimana. Il vaso è un'altra idea, anzi ha il bello che appunto, come ho detto la settimana scorsa, vede i bigliettini dei successi crescere in continuazione e quindi dà anche un po' di senso così, di soddisfazione in più. Quindi andando avanti, appunto vi ricordo di postare i vostri post con l'hashtag successo, di spargere la voce di questo gruppo, magari parlando in giro, invitando i vostri amici, adesso siamo arrivati a quota 600, quindi sono molto contenta, questo rientra nei successi della settimana scorsa della mia agenda e poi io vi aspetto sabato prossimo con un'altra colazione con Vale, nel frattempo in questa settimana manderò fuori, si dice così, una grande novità, insomma un grande progetto a cui sto lavorando e lo mando fuori soprattutto in newsletter, quindi se non siete iscritti alla newsletter vi invito ad iscrivervi come, poi vi metto il link diciamo sotto se vi interessa. e questo perché? Perché diciamo gli iscritti alla newsletter avranno un vantaggio in più che gli altri diciamo su Facebook in generale così non hanno, quindi ecco perché vi invito ad iscrivervi alla newsletter. Io con questa, in questa bellissima giornata di gennaio che è spettacolare, stamattina anche dalla pianura si vedono le Alpi, cosa che raramente si vedono, vi mando un grosso bacio, un grosso saluto, niente aspetto le vostre parole dell'anno, ok? Ciao, un bacio!